è iniziato il mio lavoro utilizzando dei sostegni differenti dalla pietra e quindi utilizzavo del medium density più del collante su cui stendevo i pigmenti bensì trovavo una insopportabile differenza tra il colore che vedevo nelle mie mani di queste polveri e ciò che risultava una volta messo nella colla che come qualsiasi diluente o collante che sia proteico che sia sintetico eccetera eccetera costringono il colore nelle condizioni chimiche e fisiche del medesimo diluente o collante vedendo questo colore così vivo e così disposto ad essere manipolato ed ad essere elaborato ho avuto la necessità di trovare un una base su cui dipingere che poi risultata essere la pietra serena ottima per questa mia intenzione siamo a perugia palazzo penna il 14 di febbraio del 2015 oggi inaugura la mostra di alfonso frateggiani bianchi che è un artista perugino che dopo tanti anni ritorna a casa per esporre qui a pochi metri da dove è nato il titolo di questa mostra infatti è ritornando a casa io ritorno a guardarsi intorno come fosse il primo giorno dopo l'inferno tutto è fermo in un interno tutto predisposto all'eterno sotto la polvere c'è della cenere in quel posa cenere quello che era di là che sempre stato di là quello che usava papà cosa ci fa su quel tavolo ho imparato a distinguere la pittura da tempo immemorabile e per esempio in america definiscono questa pittura pittura italiana ma più che italiana è anche Umbra che è una delle culle del rinascimento quindi ritrovare questi vecchi amici o questi padri si tratta di una rincitazione e in fondo si tratta sempre di pittura di differenti epoche ma di affini intenzioni un uomo è vivo quando respira un uomo è vitale se fa respirare c'è un istante nel quale ogni uomo diventa suo padre un uomo nascendo conosce l'amore un uomo crescendo impara ad amare c'è un istante nel quale ogni uomo diventa sua madre dunque la mostra si intitola ritornando a casa e vuole mettere a confronto due modi di fare arte apparentemente diversi ma in realtà legati da un rapporto direi di parentela da una parte le opere monocromatiche di Alfonso Frateggiani Bianchi perché la mostra è sua e dall'altra invece quelli che io amo definire i parenti stretti e cioè quei pittori che sono vissuti in un tempo lontano tra la fine del 1300 e la metà del 400 che sono la provenienza allora noi distinguiamo sempre l'arte antica da quella contemporanea in realtà l'arte è sempre stata contemporanea i pittori che qui sono esposti insieme alle opere di Frateggiani Bianchi erano un tempo pittori contemporanei quindi ho immaginato questi pittori che vivono nei depositi della Galleria Nazionale dell'Umbria ho pensato che per un momento lasciassero il luogo dove si vivono abitualmente per andare a rendere omaggio al loro co-cittadino in quanto Frateggiani Bianchi è l'artista che nasce a Perugia tra l'altro nasce a pochi metri da questo palazzo, Palazzo Penna in cui è in corso la mostra un uomo è vivo quando respira un uomo è vitale se fa respirare c'è un istante nel quale ogni uomo diventa suo padre un uomo nascendo conosce l'amore un uomo crescendo impara ad amare c'è un istante nel quale ogni uomo diventa sua madre questa mostra è nata in maniera fortuita rincontrando Teresa Severini con cui ci conosciamo dall'infanzia perché si abitava in questi paraggi a pochi metri da questa sala questo rincontro con questa signora ha portato ad accogliere volentieri la sua proposta di fare una mostra così La copertina del catalogo riprende un particolare di quest'opera di un pittore vissuto nella seconda metà del Quattrocento che si chiama Giovanni Boccati ed è una Madonna che accoglie nel suo splendido manto una serie di figure ecco io ho immaginato questa Vergine come se fosse una madre intesa come madre pittura una madre che accoglie i suoi figli e Alfonso Fratigiani Bianchi è uno degli ultimi figli è il figlio del nostro tempo quindi questa continuità tra la pittura di un tempo e quella di oggi certo, un tempo i pittori volevano e dovevano rappresentare dei soggetti che la committenza suggeriva loro in questo caso una committenza devozionale oggi tutto questo naturalmente non avviene più perché a raccontare sono altri mezzi molto più potenti come la televisione, il cinema eccetera e quindi la pittura da cent'anni a questa parte ha preso anche un'altra strada esiste ancora la pittura figurativa ma esiste anche la pittura monocromatica che forse ha anche una data d'inizio che può essere il 1915 con il primo quadrato nero di Malevice L'inizio della mia carriera coincide tra l'altro con l'incontro fortunato con Giuseppe Panza di Biumo costui è stato un collezionista tra i più grandi, famosi e lungimiranti che ci sono al mondo conosciuto in tutto il mondo per me ha costituito oltre che un importante gradino per la diffusione delle mie opere anche un'affettuosa amicizia che ha condotto ad approfondire la ricerca della pittura che compio stimolato dalla certezza che queste opere andavano davanti ad occhi di grande esperienza a volte è un particolare come il verde del vestito della Vergine che viene estrapolato dal dipinto stesso e diviene egli stesso un'opera quindi di un solo colore il colore di Alfonso Frateggiani Bianchi è un colore che parte da molto lontano questo è un po' lo spirito, il concetto che sta dietro a questa mostra cioè vi è una continuità nel tempo che non è solo iconografica cioè non riguarda solo il soggetto ma laddove non esiste più il soggetto esiste solo il colore quel colore parte da qui tant'è vero che se prendessimo un monocromo di un pittore tedesco o di un altro paese, magari americano beh, quel monocromo suonerebbe, parlerebbe un'altra lingua perché dietro quel colore c'è una storia, una cultura diversa il monocromo di Alfonso Frateggiani Bianchi ha origine qui in Umbria dove lui è nato e cresciuto e dove ad accoglierlo oggi ci sono i pittori che un tempo molto remoto erano contemporanei e non significa che non sei il mio il sentimento va a continuare e a continuare e a continuare Grazie a tutti.